Aspetta, che esco di casa, esco di casa e vado a fare una bella cacchierata. Buongiorno a tutti, eccomi qua dalla Norvegia. Vi devo innanzitutto ringraziare per l'ultimo video, per i tanti iscritti e per i tanti commenti. Non mi aspettavo questo seguito e vi ringrazio molto. Non me l'aspettavo e questo mi carica di piacere e anche di responsabilità, nel senso che voi aspettate da me molte altre notizie, informazioni. E quindi sono lieto di darvele. Sto fermo, sto cercando di parlare da fermo, è una cosa che non riesco a fare molto bene. Però insomma, almeno sono fuori, sono fuori di casa. La mia casa attuale ve la farò vedere più avanti, perché adesso è un po' in disordine. Quindi la devo sistemare, diciamo così. Parto dal dire anche che l'affitto della casa qui dipende tutto dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro ti viene incontro, ovviamente l'affitto è più facile trovare casa, trovare eccetera 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 eccetera. Quindi è tutto soggettivo. Io vi racconto la mia esperienza in base a quello che ho ricevuto, in base a quello che ho. E quindi ecco, è tutto soggettivo insomma. L'importante, ripeto, è trovare persone buone che ti vengono incontro. E io sono stato molto fortunato perché mi sono venuto incontro in tutti i sensi. Volevo parlare innanzitutto del caro vita. Visto che tanti mi hanno detto sì, ma il caro vita com'è eccetera eccetera eccetera. Allora io penso, io parto innanzitutto dal definire un risparmio primario. Nel senso che quello in cui non compro nulla perché me lo dà già tramite il lavoro che faccio. Quindi ho un risparmio abbastanza considerevole. Diciamo che non compro per vivere, non compro l'acqua, non compro la carta igienica, non compro saponi, shampoo, detersivi, dei piatti, dei vestiti eccetera, tovaglioli eccetera eccetera eccetera. Perché appunto al lavoro mi procuro queste cose. Quindi l'acqua che in realtà costa 8-9 crone minimo, quindi se si parla di 0,80 centesimi o anche meno, a bottiglia. fino a arrivare a 15-20 crone, 25 crone, dipende. Poi qui hanno diciamo la moda di aromatizzare l'acqua gassata con vari gusti al limone, al lampone eccetera eccetera eccetera. Ma questa è un'altra cosa. Quindi l'acqua io la risparmio perché vado a prendermela. Ho comprato una bottiglia di 5 litri e vado a prendermela in campeggio dove c'è, dir che va, dir che va l'acqua potabile. E diciamo che l'acqua rispetto all'Italia diciamo che costa doppio, minimo, minimo. Anche perché in Italia vabbè, come sono i prezzi 0,40, 0,50 a bottiglia. Sì, diciamoli sì. La carta igienica costa parecchio qua in Norvegia, dai 2 ai 10 euro visto. Pacco grande. Il sapone e lo shampoo costano uguali più o meno all'Italia. Non ho visto grandi differenze. Come per i detersivi piatti e per i vestiti. Leggermente superiore ma non è che uno si sveni per queste cose. Ah beh, vi parlo soprattutto anche del costo dei vestiti, visto che siamo andati a fare un po' di shopping. E mi sono comparato anche un paio di scarpe. Ma diciamo che i costi sono uguali a quelli dell'Italia, pari pari. Anzi, se non di meno, anche se siamo sempre in periodo di sconti. Quindi il costo dei vestiti e delle scarpe è uguale praticamente all'Italia. Ecco, questi sono i prodotti che evito di comprare perché appunto già ce li ho, me li procuro gratuitamente, diciamo, tramite il lavoro. Quello che compro invece, che mi posso permettere anche in base alle mie esigenze di salute, apro parentesi, io ho una gastrite cronica, quindi io evito, cioè devo evitare, purtroppo, evito l'alcol, evito il caffè, le zuppe, mangiare troppi grassi, fritti eccetera eccetera, dolci. E quindi queste cose qua naturalmente le evito e quindi risparmio, vabbè, ognuno ha le proprie esigenze purtroppo, precauzioni. Su questa cosa, su questo risparmio secondario, che io definisco secondario, ho definito un foglio Excel, un semplicissimo foglio di calcolo con il mio paniere, quello che compro io, e vi faccio vedere cosa compro, ma non per far vedere cosa compro, ma per far vedere il confronto tra Euro e Corona Norvegese. Però devo andare dentro perché ce l'ho nel computer. Intanto proseguo. Diciamo che io sono venuto in auto, quindi non prendo il bus, non prendo l'autobus, cioè potrei prenderlo, ma non c'è la macchina. Non prendo, non faccio biglietti nemmeno per il treno. Comunque ho sentito dire che i biglietti del bus, dell'autobus, sono molto cari. E anche quelli del treno. Ci sono i vari pedaggi lungo le strade, perché ci sono molti tunnel, quindi vi arriverà a casa automaticamente il conto da pagare, direttamente a casa, dopo qualche mese. Quindi se non vi registrate sul sito del traffico norvegese, vi arriva la bolletta da pagare con bonifico. E comunque anche i pedaggi delle strade sono molto cari. Diciamo che la Norvegia è piena di tunnel perché è piena di montagne, quindi per non rovinare la montagna si fanno i tunnel ed è una bella cosa, diciamo. Ecco, questi sono... I traghetti, anche quelli sono molto cari, però per esempio oggi ho preso un traghetto qua che parte proprio da Shinsarvik ed è fatalità, gratuito, e quindi ho approfittato, l'ho preso e si è fatto un bel giretto, insomma, su una penisola. Ecco, quindi comunque trasporto purtroppo in Norvegia si paga, si paga bene. E costo carburante, costo carburante qui va dai 20 corone al litro ai 25 corone al litro, dipende, dipende dal posto, dipende dalla zona, dipende dal giorno. Io sono riuscito, per esempio l'altro ieri, ho fatto il diesel a 19,54 corone, che sono addirittura meno dell'Italia, adesso non so l'Italia com'è a livello diesel, però sarebbe sui 16, cioè 1,65 euro al litro, e quindi buono, quindi bisogna girare, se uno ha possibilità di girare e trovare il distributore dove c'è l'offerta, anche lì ci si ferma e si fa il carburante. Vediamo le spese mediche, le spese mediche, gli ospedali, se uno purtroppo deve farsi la visita, deve andare da dentista, eccetera, sono tutte cose che uno se le deve pagare, nel senso che io ho fatto un bel po' di anni di lavoro in Svezia, in Svezia credo sia come qua, diciamo che non ho molta esperienza in Norvegia, perché per fortuna toccando ferro non ho mai avuto a che fare con ospedali, medici, eccetera, però come in Svezia, in Norvegia dovrebbe esserci tipo paghi il ticket ad ogni visita in ospedale, se non hai il medico, ma col medico all'inizio è un po' difficile avere, il medico di base, vai all'ospedale, vai in ambulatorio, paghi il ticket 18 euro, mi sembra in Svezia era sui 25 euro, tipo, e niente, ti paghi la visita, insomma. Mi sembra che ci sia dopo 8 visite che hai raggiunto un tot spesa, la successiva superamento di questo tetto ti porta ad avere una visita gratis, cioè delle visite gratis dopo un certo tetto, ecco dovrebbe essere così. solo da dentista sono riuscito, sono riuscito, purtroppo sono dovuto andare tre anni fa, e niente, mi hanno fatto un favore, ma non so qual è il livello dei dentisti, certo che è stato un po' un macellaio, diciamo, non ha avuto molto tatto con la mia bocca, però la corona che mi hanno messo più o meno costava come quella italiana, quindi diciamo che lì più o meno i prezzi sono compatibili. Qualcuno mi ha fatto sulla previdenza sociale, una domanda sulla previdenza sociale, come funziona, è della verità c'è un gettito fiscale che tu paghi tramite il datore di lavoro e quindi la previdenza sociale in parte viene gestita, viene sovvenzionata, finanziata da queste trattenute IRPEF. dall'altra, se uno vuole, si può fare un'assicurazione privata, integrativa, diciamo, però per adesso io sono all'inizio, quindi non so neanche bene come muovermi, dovrò informarmi e comunque diciamo che è prematuro adesso per adesso, questa cosa. come parlare di pensione, so che o con gli anni che ho lavorato in Svezia ho accumulato un po' di pensioncina dopo 4-5 anni di lavoro in Svezia, però sicuramente qua il sistema norvegese è leggermente differente. E niente, quindi poi dopo l'auto sicuramente spero che vada sempre bene, se avrò bisogno di un meccanico sarà anche lì una nota dolente perché qua le ore lavorate dai meccanici costano un botto e quindi spero che vada tutto bene per il mio furgone vangino. Ecco, mi sembra di avere detto un po' tutto di quello che mi sono annotato perché questa volta mi sono annotato delle cose, non sono andato troppo di istinto così, se avete tante altre domande me le fate e io cercherò di rispondervi qui sotto nei commenti. E niente, il prossimo video vi farò vedere un po' di casetta mia e dove vado a camminare perché per me il tempo libero è camminare, spostarmi, viaggiare e vedere le bellezze che ci sono intorno a me. Ecco, quindi vi abbraccio e vi ringrazio molto del vostro seguito, dei vostri commenti e al prossimo video. Ciao!